Ciao, bentornati, siete contenti che oggi andremo a fare un altro entusiasmante schema di parole crociate che nel 50% dei casi non mi verrà, ma questa ormai non è una novità, il mio è pure intrattenimento, magari vi fate anche due risate, procediamo, uno orizzontale, due numeri su una ruota, 5 orizzontale, quello è il koala o l'opossum, marasubiale, 13 orizzontale, livellato al suolo, raso, 16 orizzontale, l'inventore del sassofono, sax, 17 orizzontale, un formaggio generico, cacio, 19 orizzontale, questo o quello, può essere cio, ma cio non è solo questo, non sono sicura, ma andiamo avanti, 20 orizzontale, una rete tv di cartoon, no ragazzi sono troppo vecchia, io sono ferma bim bum bam, 22 orizzontale, la sigla della tangente, cos'è TG? proviamo un attimo l'uno verticale, si corregge con le lenti, astigmatismo, 2 verticale, Tom Selleck era PI, magnum, allora si era proprio TG, ha un 23 orizzontale, l'edwin due volte oro olimpico, nei 400 ostacoli, ma chi lo sa? 24 orizzontale, una pericolosa attività, quelli che fanno gli stuntman, come si dice? mi mette solo quello, ma a parte che non so proprio, cioè so che la persona si chiama stuntman, ma non so come si chiama l'attività e poi non ho neanche la certezza che sia quinta, quindi andiamo avanti con il 26 orizzontale, che è molto lungo, quindi ci apprevedo il disastro, non suscettibile di verifica, 31 orizzontale, la capitale del Qatar, mi sfugge totalmente, mi viene in mente Abu Dhabi e Dubai, ma quelle sono le mirate arabi, quindi andiamo avanti, 32 orizzontale, un poliziotto ha le dipendenze di privati, guardia privata, 33 orizzontale, le prime di prima, P, R, 35 orizzontale, un arnese come il saracco, non so neanche cosa è il saracco, so cosa può essere un arnese come il saracco, andiamo avanti, 37 orizzontale, dove sei? Ah, è già stato scritto, era il malvalli scrittore, meno male che già c'era la M, perché non sapevo assolutamente come si chiamasse il nome, procediamo con la 38 orizzontale, candido fiore comune, sui nostri litorali, pratolina, P, R, A, T, U, I, V, 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 A, T, U, I, ci starebbe anche, ma, no, vabbè, dai, proviamo con la 5 verticale, non sopportano le donne, misogini, allora questa è la guardia giurata, cavolo, ho sbagliato, misogini, guardia giurata, da meno male che finisce con le ultime tre lettere uguali, sette verticale, non può essere anche incatenata o alterna, ma che ne sono? otto verticale, Arturo fra i personaggi di Brecht, se vabbè, nove verticale, bello è la risposta favorevole, non lo so, 10 verticale, se le dà il presuntuoso, A, 11 verticale, 11 verticale, lo zu filosofo cinese, Lao, Lao Tzu, come si chiamava Lao, mi sembra che fosse Lao, il venti orizzontale, cos'era? era una reti di food cartoon, Raio, io, io, poi adesso si, Raio, io, io, diciamo di si, andiamo un attimo a vedere, quindi, 12 verticale, cos'era? 1 nella lingua di Kant, 21 verticale, 21 verticale, il learner giornalista, è GAD, ma non è, Raio, io, è Rai, cucù, ma che cavolo si chiamano, Rai, questo è GAD per forza, Sì dai, è GAD learner, quanti learner ci staranno? 13 verticale, increspata, grinsosa, Roush, però, il rispato è aggettivo, Roush, il nome, 14 verticale, possono infestare, le piscine, al che, allora, questo è Rai, Ulp, al, ok, Ruggosa, cos'è? Increspata, grinsosa, rugosa, rugosa, ionaggio, spionaggio, questo è, una pericolosa attività, spionaggio, qui ci sono tutta questa caterva di parole, che non so, 18, hanno 4 verticale, proviamo, i più elevati onori, non lo so, 18 verticale, prende, prende l'impronta del sigillo, prende l'impronta del sigillo, l'impronta del sigillo, ma non è l'impronta che, cioè non è il sigillo che prende l'impronta, quando viene, 7 verticale, cos'è? Può essere anche incatenata, o alterne, ma sì, ne so, 27 verticale, circa, abbreviato, K, 23 verticale, la fata sorella di Rear, tu, turchina, no, ma mica era lei, ma davvero, turch, ah, ah, è il posto, è troppo facile, la fata turchina, no ragazzi, non lo so, 17 verticale, dare più interesse al discorso, ricorrendo alla fantasia, ma che ne so, proviamo, con la 38 orizzontale, al candido fiore, 43 orizzontale, agevole alla viabilità sul tratto appellinico, della 1, la variante di valico, oh, sì, va, bene, 15 verticale, soi, così lo so, e si frequentano di scinti, i soi che, 35 orizzontale, un'arnese, quasi come sarà la sega, perché, vabbè, proviamo prima con il 42 orizzontale, le consonanti del genio, con il 42 orizzontale, questo è proprio sega, spiace, spiace, adesso, youtube mi demonetizzerà questo video, perché ho detto la parola sega, 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 più volte, 35 orizzontale, un'arnese, come sarà così, è la sega, diciamolo un'altra volta, casomai youtube non avesse capito bene, 36 verticale, può cogliere chi attende l'ansia, 46 orizzontale, Hippolyte, storico e filosofo, ah, quindi sarà Hippolyte, storico e filosofo francese dell'800, oh, ma è impossibile sto schema, 48 orizzontale, un agglomerato urbano, la periferia, una metropoli, un agglomerato urbano, la periferia, non è troppo, sopporgo, andiamo avanti con il 28 verticale, Ray, nel film discorsese, dei bravi ragazzi, 29 verticale Sidney fra i registi oddio mio oddio Sidney 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 oddio anche questo sì ho capito Sidney Kim ma vabbè 30 verticale più versa e più in cassa ma chi è che più versa e più in cassa? ma nessuno al mondo 9 verticale allora risposta favorevole a positivo 4 verticale più elevati onori 18 verticale prende l'impronta del sigillo come si chiama? la cera c'era 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 l'acca eccolo là c'era l'acca ce l'abbiamo fatta praticamente è un'agonia questa c'è proprio un'eseguazione queste parole crociate 38 persone in Italia ha sempre il candido i fiori bla 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 non lo so vabbè 48 cos'è? un agglomerato urbano alla periferia d'una metropoli che circondarci 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 34 verticale soldati principianti le reclute 41 verticale il comune del Savonese con la grotta della Pasura questa volta la Luguria non riesce neanche lei a venirmi in aiuto perché non lo so 45 verticale il CS per il chimico cesio spero 46 orizzontale sempre quelli triturati i politi non lo so 50 orizzontale disseminata di difficoltà irta 54 orizzontale espressione di concessione espressione di concessione ah sia 60 orizzontale grosso prodotto dell'orto melone allora 47 verticale vediamo la sirenetta della Disney ok Ariel poi riguarda questo un aneddoto 5 milioni di anni fa mentre mi trovavo in New York avevo conosciuto un ragazzo canadese e praticamente quando gli ho chiesto come si chiamava lui mi ha detto e io non capivo e e e alla fine mi tiravo fuori il documento c'era scritto Ariel perché ovviamente no la sirenetta la chiamavamo Ariel ah e ho detto ah come la sirenetta e lui mi ha detto sì e quindi mi dispiace sirenetta sei Ariel non sei Ariel però vabbè ti vogliamo bene lo stesso 43 verticale essenziali per l'esistenza vitali eh dai 46 orizzontale sia ancora stipolito 66 orizzontale si usa per friggere olio eh di semi di semi no olio d'oliva non c'entra neanche quello olio di mais no olio di colza no ma di finaccioli 2 i i a c o neanche l'olio di accioli o finaccioli come si sono tutti olio di allora olio 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 di semi olio di mais questi sono tutti troppo corti olio di colza a parte che non si dovrebbe usare ma è corto anche quelle olio di vinaccioli è troppo lungo ma non mi viene in mente nient'altro che altri oli si possono usare per cucinare olio del motore vediamo e no è troppo corto anche questo ragazzi non lo so 55 verticale all'oltre c'è il west west one come si chiama andiamo al 51 verticale scampai piatto veneto oh no oh oh orrore cioè i piatti veneti ne ho mangiati penso agli arti perché essendo mezza veneta ma sti scampai non so mia cosa chiese cosa chiese cosa chiese sti scampai cos'è che stai scampai non so la che mi guarda andiamo avanti abbiamo il 55 verticale si anche orizzontale mercanteggio con Giacobbe proviamo il 56 verticale le seleziona l'enologo le uve il 63 verticale dove sei andato a finire? iniziali manet ahhh oddio mi si chiamava edouard manet perché c'era un manet un monet non mi ricordo chi dei due si chiamava come e poi ma che fantasia uno manet l'altro monet dai su 57 verticale dove sei andato a finire? un punto a scopa uno no no ragazzi per carità non lo so un punto a scopa a scopa un punto uno uno dieci tre cinque quanto fa? non lo so 58 verticale bollettino per pagamenti bancari o telematici olio di non lo so 62 orizzontale cos'è? genuina autentica vera no un punto a scopa sarà tre per forza perché olio me me olio di cosa per fiocce olio di cemento olio di cosa? 57 orizzontale che cos'è? un sultanato arabo oman oman non viene oman no oro aspetta 57 verticale infatti c'era qualcosa che non mi tornava qua con il 3 dico un punto a scopa oro po' se è l'oman attenzione che adesso veramente proprio arriva la tragedia qua 30 verticale più più versa e più si incassa no ragazzi è veramente tristissima questa cosa che non mi viene niente 41 verticale il comune del savonese con la grotta della basura non mi viene proprio niente 49 verticale no? la mezza è indefinita stagione? no mezza non lo so 57 verticale no e poi leggo anche i numeri ormai sono proprio da anni i numeri scuri di capelli 53 verticale neri 68 orizzontale prefisso che nega inconsapevole tipo inconsapevole vuol dire che non è consapevole quindi è in non lo so insicuro non è sicuro vediamo quindi il 65 verticale il nord no 2 però ovviamente non mi ricordo Jack Norton come cavolo si chiama? 64 orizzontale ha un titolo da difensore 46 no 64 verticale cos'è? ci precedono in 11 di ah difensore 64 no ha un titolo da difendere ah ma si difensore edward norton edward norton allora come si chiama? wow 49 verticale la messa è indefinita ma sempre non lo so ha 40 orizzontale che sono tre lettere vediamo traccia segni sul volto ed ha 41 verticale ah ad esempio quel famoso comune del Savonese con la grotta della belfure to toccan no non lo so ragazzi ah toccan il verbo toccan ho guardato un video di canale il canale è un video principalmente che ha detto veneto fa di video è un video no volevo dire un canale cosa ha detto non lo so divertentissimo per chi capisce il veneto e anche per chi non lo capisce vi consiglio di andarlo a vedere comunque non è che sia tutto in veneto eh però c'era il video che parlava del del verbo potere io posto in inglese come il verbo toccan e dopo ovviamente c'era tutta vabbè insomma comunque si chiama canale il canale sto facendo pubblicità gratis figiulo cioè nessuno mi è venuto in mente adesso nessuno me l'ha chiesto è che quando secondo me un canale vale faccio mi fa anche piacere comunque andiamo avanti 59 orizzontale dove sono? metallo per fabbricare lenti ma che ne so io no qua cos'è il 52 orizzontale? puoi usarlo l'arteriosclerosi usna cerio cesio 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 no no qua lì c'è qualcosa come sclerosi usna cavolo è quale un totto orizzontale un agglomerato urbano una periferia di una metropoli bla 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 credo che questo sia in assoluto quello che ha fatto più schifo lo schema che proprio proviamo con il 23 verticale l'ho fatta sorella direi l'ho fatta sorella direi l'ho fatta sorella direi l'ho fatta sorella direi sì sì l'ho fatta morgana oh ce l'abbiamo fatta morgana 46 Cos'è orizzontale? Il polizio, il tahino Ma non lo so Se fosse stata tahina Quella Come si chiama? Quella Non lo provo neanche in italiano Ma quella crema spalmabile Il tahino, la tahina In base di semi di esame Buonissima Non mi ricordo che provenienza abbia Ma c'era un periodo che ne mangiavo In quantità industriali E quando mi fisso sulla cosa Faccio solo quella Mangio solo quella Quindi poi mi rompo le palle E niente No, accannata Vabbè 17 verticale Scusate, quanti mi partono? Dare più interesse al discorso Ricorrendo alla fantasia Proviamo con il 26 orizzontale Non è suscettibile Di verifica In comune Non lo so 25 verticale La discesa La discesa dell'aliante Planata Non l'avevo mai letta Sto definizio 30 verticale Cos'è? Più persa Più cassa Grandi due fiori comuni Sui nostri litorali Giglio Sarà giglio sicuramente 17 Arino Sì Ecco Mettiamo così Cioè Mai visto Vabbè Comunque 17 verticale Dare più interesse al discorso Ricorrendo Blah 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 Condire Condire Dai Incontrollabile No cos'è? Non suscettibile Di verifica Incontrollabile Vabbè Incontro Sicuramente Anche Incontrollabile Ma sì Ma scriviamolo Scriviamolo Vedrete che alla fine Riesco A far quadrare Anche qui Le cose 4 verticali Più levati Un uomo Dici 23 Lightwing Altigi Cantigi Baltigi Moles Mones Antigi Prestigi Artigi Baltigi Cantigi Martigi Oddio ma che cos'è? Prestigi Scrivo così Pastigi Ecco Che bello 7 verticale Può essere anche incatenato Altern Arad Merso Lumet 29 verticale Sidney Fra registro Ah no Quello non era Quei Sidney Che mi metterai io Perché Liot 28 verticale Può essere anche Sbagliato Incontrollabile 28 verticale Ray nel film Di Scorsese Ray Liot Reilotti Reilotto 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 Oddio Città Quello è un totto orizzontale Un agglomerato Città Città satellite Mamma mia È stata veramente Guardate Una gestazione Questa parola Arata Cos'è questo 7 può essere anche Incatenata La sciarata Infatti Mi sembrava che Si a che fare Con l'enigmistica 19 orizzontale Questo con quello Allora Su questo non ci piove 51 orizzontale Non lo so Ha olio Di Sementi No scusate Olio Di Olio di Sementi Olio di Cos'è? 55 verticale All'oltre C'è West Ah West End Allora Si olio De 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 120 Olio De De Cavolo Ne so 55 orizzontale Mercante Gioco Giocoppe Esau Ma Si Secondo me è così 51 verticale Scampai Piatto Veneto Ah Io sai Scampai Se Google Anzi Se YouTube Parla Veneto Perché mi demonetizza Anche per questa parola Agli altri che non conoscono il Veneto Penso che sia abbastanza atturibile Andiamo avanti Olio di Menti Fermentino Olio di Demen 58 verticale O bollettino per i pagamenti 57 orizzontale Soltanato Soltanato E Ragazzi Non c'è perso 52 orizzontale Può causarlo L'arterio sclerosi Ha 39 verticale Che emana profumo 44 verticale Un'infiammazione intestinale Il 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 Scusi Io conosco L'infiammazione intestinale Coliducerosa Morbo di Crohn Con una sindrome irritabile Il con la F che cavolo 41 verticale ah si sempre comune nel savonese 59 orizzontale metallo per fabbricare lenti la mezza è indefinita mezza mezza vabbè 67 orizzontale nella fontana e nella pozza mezza mezza non so che emana profumo non so sono pocas arroi la terosclerosi parissima questa cosa è attenta verticale più verso e più in cassa vabbè il parista questo qua secondo me è l'Homan ecco questo qua è l'olio di come è l'olio di si usa per fricce l'olio di l'olio di come sempre la mezza indefinita la mezza cosa poi 31 verticale è la cittadina del savonese toivano no non so toirano 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 dio sta parola l'ho già sentita toirano ecco toirano no però a parte gli scherzi toirano l'ho già sentita ma non so se sia una cittadina del savonese o cosa l'olio di orizzontale metallo per fabbricare bla bla lenti da niente ragazzi ancora una volta sono costretta a accettare le armi e a dichiarare sconfitta e niente ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao